Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi. Le targhe dei veicoli non devono essere sporche. Il sorpasso si effettua tenendo un'adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa. Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove è vietata la sosta. Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada. Importante. Falso. Grazie. 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 i limiti di velocità, vigenti, per quel tipo di strada. Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione, come in figura, non si può svoltare a sinistra. Il segnale raffigurato presegnara la progressiva chilometrica oltre la quale è obiettiva. È obbligatorio l'uso delle catene. Grazie. Grazie. Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica. Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica. Il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica. è sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra. Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote. in caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori dalla carreggiata. vero. La barriera raffigurata può essere integrata da lanterna a luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità. il segnale raffigurato, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus. vero. vero. ok. Se un infortunato della strada ha un'abbondante moragia esterna, non si può assolutamente dargli da bere acqua. falso. falso. il semaforo di onda verde in figura si trova su strade con più incroci dove vi sono semafori sincronizzati, temporizzati. è regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta rallentare per regolare il traffico. Il linguaggio. è in troppo. è le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza. Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% l'altezza massima prevista dalla carta di circolazione, ma entro 4 metri. I pannelli integrativi in figura vengono posti sotto i segnali di diritto di precedenza. Dopo un incidente, se c'è un rischio di incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può gettare sabbia o terra alla base delle fiamme. Si può gettare sabbia o terra. Vero. 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 L'autocaravan non è un rimorchio. Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa. Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto a un display con la scritta luminosa a costare, avete l'obbligo di arrestarvi. Vero. Vero, ok. Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada su cui ci si immette. Vero. Il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita. Vero. Vero, è la salita. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo per tenere caldo il motore e migliorarne il rendimento. Vero, è la salita. Vero, è la salita. Vero, ma è la salita. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna bloccarli le mani. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore. Vero, è la salita. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo C transita per primo. Vero, è la salita. Vero, vero. Spazio della natura si quadruplica se la velocità si raddoppia. Vero, vero. Vero, che è la salita. Vero, ok ragazzi, mi l'ai ne? Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Grazie a tutti. Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti. Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi. Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti. Il conducente deve regolare la velocità in modo di rispettare le limitazioni imposte. Grazie. 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 Grazie.